Storie di famiglia Iscena, la casa dell'energia, domenica 4 dicembre dalle 15 alle 20. Una manifestazione focalizzata, come dice il titolo stesso, sulla famiglia, dalla comprensione delle relazioni, alla risoluzione dei conflitti, dall'educazione all'affettività, dall'apprendimento alle modalità di interazione ludica. Quello che ci interessava era mettere insieme tutte le famiglie, tante famiglie speriamo, tantissime, ma anche mettere insieme tutte le persone che collaborano proprio per l'obiettivo famiglia. Quindi metterci insieme, unire tutte le risorse per metterci al servizio della famiglia e della salute della famiglia. Ci siamo attrezzati per accogliere tutti, soprattutto le famiglie con i bambini, quindi durante il convegno ci sarà anche uno spazio concesso dalla libreria Edison per intrattenere i bambini, un po' di tutte le età, quindi venite numerosi perché vi aspettiamo. L'obiettivo principale di Confartigianato è da sempre quello di seguire l'azienda, non soltanto in tutti gli adempimenti obbligatori, ma anche in tutto quello che sono le dinamiche relazionali che si sviluppano all'interno dell'azienda. Confartigianato Imprese rappresenta tantissime aziende artigiane dove si sviluppano nella maggior parte di dinamiche familiari che alcune volte vengono sottovalutate e non gestite e a quel punto possono creare dei conflitti. Per questo Confartigianato ha accettato con entusiasmo il progetto propostoci dal Centro Comete.